mercoledì della quindicesima settimana del tempo ordinario dal vangelo secondo matteo in quel tempo gesù disse ti rendolode padre signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli sì o padre perché così hai deciso nella tua benevolenza tutto è stato dato a me dal padre mio nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo commento al vangelo del giorno di don luigi maria epicoco nel vangelo di oggi gesù esprime chiaramente la sua preferenzialità non lasciando alcun dubbio sui suoi prediletti ti rendolo de padre signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli sì o padre perché così hai deciso nella tua benevolenza credo che tutto vada ricercato nella capacità di semplificazione che solitamente hanno i piccoli gesù non sta parlando semplicemente dei bambini ma di tutti coloro che rinunciano a complicare la vita mostrando un'attitudine immensa a non perdere di vista l'essenziale a persone così dio racconta i suoi piani e si intrattiene a parlare lungamente nel loro cuore ma la semplicità non viene dall'indole ma da una profonda educazione interiore una autentica vita interiore è quel lavorio attraverso cui noi cerchiamo di imparare l'arte di semplificare le cose fino a portarle al loro nucleo essenziale la persona semplice non è banale è essenziale va al nodo della questione e non si perde dietro migliaia di ragionamenti che quasi sempre hanno come tema portante sensi di colpa e colpevoli tutto è stato dato a me dal padre mio nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo ecco allora qual è la verità dio non lo si cattura con complessi ragionamenti ma con la semplicità del cuore è la semplicità che sa accettare il dono di vedersi raccontato da gesù ciò che da solo non avrebbe mai potuto scoprire se non è gesù a portarci al padre nessuno di noi ci arriverà mai chi è semplice lo sa e si fida di lui gli va dietro lo ascolta ci passa del tempo si lascia istruire lo lascia fare chi è semplice in pratica prega e sa che la preghiera è l'arte di essere semplici la preghiera è il contrario delle preoccupazioni anzi è lì che dobbiamo portarle per poter gettarle tutte in mano a lui i piccoli non si fanno scudo della loro intelligenza sanno che anche essa va abbracciata da qualcuno non si fanno scoprire